Questo libro è nato con la forza di uno schiaffo, io lo definirei così, un giorno non c'era nulla e il giorno dopo improvvisamente io di Viola, Carlo e Luce sapevo tutto e fino a quando non ho messo la parola a fine loro non hanno trovato pace nei miei pensieri. Viola è una donna che assomiglia a tutte e a nessuno, secondo me ognuna di noi ritrova un pezzo di sé. Carlo è l'uomo che vorremmo tutti avere a fianco, anche se forse come Viola non riusciremo ad apprezzare. Luce è un personaggio che collega tutta la storia ed è una ragazzina che deve ancora capire tante cose, che deve ancora crescere molto. Aver pubblicato un romanzo con un grande editore, riuscire così a passeggiare per la strada e vederlo in tutte le vetrine, è un sogno nel cassetto che si avviva. E quindi come chiunque possa realizzare qualcosa del genere non posso che esserne strafelice. Questo romanzo si intitola Un uso qualunque di te? Nasce da una frase che ho regliato un giorno che voleva dire tutt'altro ma quest'idea dell'uso qualunque è nata così. Alle mie lettrici auguro un'emozione, a tutti i miei lettori auguro una riflessione e perché no, anche a loro una grande emozione. Al prossimo episodio